Nasce il primo franchising made in Italy. Lei Fit palestre per sole donne è divenuto il più importante marchio italiano per palestre in franchising. L'idea di sviluppare la rete di franchising Lei Fit è nata nel 2010. Dopo diversi anni di lavoro nel settore fitness abbiamo voluto creare un sistema strutturato in modo semplice, chiaro, da trasmettere tutto il nostro sapere, il know-how, per quelle persone che desiderano aprire una propria attività nel mondo del fitness al femminile. Da un'attenta analisi di mercato, durata oltre un anno, abbiamo sentito l'esigenza di dare vita ad un marchio tutto italiano, con procedure più snelle per quanto riguarda la parte burocratica dell'affiliazione. Lei Fit palestre per donne è specializzata nell'allenamento in 30 minuti attraverso il circuito Easy Line della Tecno Gym, studiato per la prevenzione, la salute e il benessere delle donne. Lei Fit palestre per donne franchising rappresenta un'importante opportunità per qualsiasi operatore che desideri aprire una palestra di facile gestione e supportato dal nostro team con esperienza decennale, ricevendo supporto nelle azioni di marketing e pubblicità a livello locale, oltre a beneficiare delle attività di comunicazione su scala nazionale. Ogni nuovo club sarà assistito attraverso un supporto tecnico e commerciale, utilizzando corsi di formazione, convegni e meeting, una vera assistenza continua pre- e post-apertura. I punti essenziali del franchising Lei Fit sono Consulenza gratuita, formazione tecnica a 360 gradi, fornita da un gruppo con know-how consolidato, possibilità di finanziamento e minimo investimento, layout personalizzato della propria palestra, sistema informatico per la condivisione dei dati in tempo reale, esclusiva di zona, assistenza continua pre- e post-apertura del nuovo club. Puoi richiedere una consulenza gratuita priva di alcun impegno. Un'ottima opportunità, veloce e redditizia. Sarebbe un vero peccato perderla. Cosa aspetti ad aprire il tuo franchising? Lei Fit Cosa aspetti ad aprire il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.com.